Qua ci sono dei rifornimenti Calma, calma, stai bene Gli ho una granata È un'unità nemica Sì, non dovrebbe essere lontano È un'unità nemica Quanta letri dalla mia posizione Pronti a lanciare il pacco di supporto? Sì, non dovrebbe essere lontano 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 Vedo il loro carro Allontano 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 Visto che roba Ho abbattuto un nemico Sì, non dovrebbe essere lontano Visto che c'erano Hanno un carro 40 metri dalla mia posizione Grazie. Abbiamo eliminato un loro veicolo. Penso io. Mi hanno avviso che stanno catturando l'obiettivo. Bravo, uno. Ne ho trovato uno. Bello lo dico. Nemico, qui! Quello è un nemico.